Ciao tesorocimi speditissimi, come state? Io bene? Cavolo, c'ho il cellulare al contrario, spero non mi crolli. Boh, teniamolo tipo così, invece di non cadere perché potrei urlare. Come state? Io bene? Oggi torno con voi e per voi, senza urlare perché i bimbi dormono, quindi cerchiamo di essere molto veloci, con il video sulle palette utilizzate nel mese di giugno, in realtà ero convinta di avervelo già fatto. Invece scrivendo qua il mio taccuino, mi sono resa conto che non avevo finito di inserire le palette di giugno, ciò vuol dire che non ve l'ho fatto vedere. Io ho anche inserito tutte le palette che ho usato nel mese di giugno, quindi luglio, agosto e settembre. Ho un gloss che mi sta un po' creando disagio. Mettendo anche ovviamente la palette che ho usato oggi, che vi dico già che ho usato, la palette di Anastasia, che si chiama? Boh, che si chiama? Boh. Quella con i due blush. Ah, la prima palette è uscita con il formato nuovo, con le texture nuove, la prisma rose, può essere? Vabbè, vi faccio vedere anche il trucco. Non so se si vede, spettacolo. Vabbè, però ve lo farò poi in un altro video, in un altro video, in un altro video, quindi più avanti, bla 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 bla, per tempistiche. E perché, perché sì, dai. Anche perché il mese di giugno ancora non lavoravo, quindi ho usato un po' più di palette, infatti già qua potete vedere un po' la robetta. Mentre luglio, agosto, settembre, vi sono truccata solo il weekend e manco tutti i weekend, quindi potete immaginare. Allora, i disegni che vedete qua me li hanno dati le maestre, sono di Liam, me li ho fatti a scuola. Di Ambra non me li hanno mai consegnati. Allora, andiamo subito con le palette. Vi dico già che ho usato 15 palette su 30 giorni, quindi anche nel mese di giugno non mi sono truccata poi chissà quanto. 15 palette per un totale di 20 utilizzi. Quindi 10 giorni ho deciso di lasciar perdere. Allora, la prima palette che ho usato è la The Balm Voyage 2, che è una palette che mi fa proprio errore, che da una parte volevo vendere, però alla fine ho deciso di tenere solo perché all'interno, vabbè, il pack è carinissimo, solo perché all'interno abbiamo anche un bronzer, due blush e un illuminante. Poi qua sotto ci sono dei rossetti che hanno sempre avuto un fettore immondo, cioè tipo che li mettete sulle labbra e vi fanno cadere le labbra, quindi no. Solita cosa, cavolo, il led è bello perché fa vedere i colori vivi, ma dall'altro canto fa cacare perché non... Cioè, fa luce lì, che fastidio sto gloss, ma perché cacchio l'ho messo? Vabbè, comunque, avete capito. La parte viso mi piace abbastanza, la parte occhi fa veramente pena, raga, è veramente orrida, cioè non so se si fa così. Vabbè, è orribile. Volevo venderla, però poi ho detto, cioè alla fine tanto per quello che ricavo, alla fine non mi compro nemmeno le polveri viso, quindi a questo punto la tengo per le polveri viso. E se proprio è, ogni tanto magari do una spolveratina agli ombretti. L'ho usata solo una volta, è una palette che ho da, oramai, penso tre anni come minimo, e l'ho usata... Boh, quattro volte, sì e no. Poi, la Mercury Retrograde mi sono ritrovata ad usarla tre volte nel mese di giugno e io ho continuato ad usarla anche negli scorsi mesi. La... eccola qua. Pensavo stesse bene in d'ambretta. È una palette che io quando guardo mi annoia, perché i colori non mi piacciono, però poi quando la uso invece dà tantissime soddisfazioni. Anche il peccano mi fa impazzire. Eccola qua. È bella. I matte rispetto ad alcune palette di Uda mi piacciono già un po' di più, perché non sono tanto secchi, non sono pressatissimi. Gli shimmer sono, sì, molto belli. Hanno un tripudio di... non so se definirli glitter o... non lo so, mi sembrano tanti diamantini, ecco, sono veramente bellissimi. Non hanno un colore pieno, non ha base colore strapiena di pigmento, però hanno questi glitter, non lo so, questi riflessi meravigliosi, stupendi, che gli fanno gli occhi come gioielli. A paragone, ad esempio, della Sun Vibes, questi qua sono molto più pieni e luminosi. Su di me, ovviamente. E l'ho usata tre volte. Palette che non venderei, perché la uso spesso contro voglia, ma solo perché mi annoia, però poi quando la uso invece sono ingasatissima. Vabbè, sapete che sono fatta strano. Poi, la Sunset Palette di Natasha Denona l'ho usata due volte. Avrei preferito usarla un po' di più solo per il prezzo. L'ho comprata perché, boh, probabilmente anche io volevo farmi tanto la fica con le palette di... Vedateli... Di... Di... Di Stacqua, di Natasha Denona. Avevo preso all'inizio la bronze, che mi è piaciuta tantissimo e mi piace tuttora. E poi ho provato queste più grandi, che dicevano che erano ancora più top, yeah, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine, raga, secondo me non valgono i soldi che costano. Cioè, ho strappato sta plastica perché mi crea masse disagio. Super pigmentati, super sfumabili, super pigmentati. Ok, appena li mettete. Peccato che sulla mia palpebra questi colori satinati, ma anche i matt, si perdono. Cioè, dopo nemmeno mezz'ora si perdono, non sono più intensi, sono scoloriti e, ok, sono facili da applicare, sono super pigmentati da subito. Ma se dopo 20 minuti, mezz'ora muoiono, cioè, non ha senso, non ha senso. Ovviamente è una palette che avevo pagato al 30%, ovviamente, che mi sembra che è ancora scontata su Sephora, forse al 30%, forse al 40% mi pare. Quindi, se volete provarla, sarebbe un'occasione per comprarla, ecco, se siete decisi. È un peccato, volevo provare altre palette di Natasha Denona, però, su, io ne ho, mi pare, tre grandi. Ho questa, un'altra, cioè, grandi. Sì, sono le mini. Ho la Bronze, ho la Sunset, ho la Zendo e ne ho un'altra, che non ricordo. L'unica che mi piace è la Bronze. Quindi, vabbè, comunque l'ho usata due volte. Non la vendo, anche perché, dal momento che la usate, perde un sacco il valore. E, no, mi ci devo mettere e usarla. Poi, magari, è solo questione di trovare un primer, eh, che aggrappa bene i colori, o usare, magari, la colla di NYX. Solo che ogni volta io non è che ho voglia di usare colla o non colla. Cioè, io uso un primer, apro un primer e tendo a portare a termine quel primer, senza aprirne 300.000, come facevo anni fa. Ma, perché poi alla fine cosa succede? Che vanno a male e li butti, non mi spreco di soldi, quindi non mi va. Lo scopriremo. Adesso sto usando il primer di MAC, che, raga, ditemi se è normale. L'ho aperto due settimane fa, dopo un anno che ce l'avevo, ma non l'avevo mai aperto. Ha una consistenza, sembra tipo cera. E quando la spalmate, poi si spalma bene. Non mi sta dando problemi, quindi è normale questa consistenza corposa. Poi ho usato la Rainforest of the Sea di Tarte due volte. Anche qua, palette che mi sono ritrovata poi ad usare anche a luglio. Bellissima. I glitter, come vi ho già detto, non mi fanno impazzire. Le altre colorazioni sì, carine, ma è una palette che non serve, secondo me. C'è alquanto inutile. È utile solo da collezione, ho da mettere lì in una vetrinetta perché è bellissima. Ma per il resto è inutile. Non la vendo solo perché è bellissima. È il pack più particolare che ho nella mia make-up collection, quindi... Cioè, ne ho di cose particolari, ma non così con l'acquetta. Cioè, no, non l'ho studiata così bene. Poi... La Sun Vites di Urban Decay. L'ho usata solo una volta. Questa è stata una palette che mi era piaciuta tantissimo appena l'ho acquistata. Poi mi sono ritrovata ad aprirla così l'anno scorso e mi ha lasciato un po' perplessa perché non capisco cosa mi era piaciuta l'anno scorso. I matte, mi ricordo che non mi hanno mai convinto. E questa specie di shimmer non sono pieni. Fanno a volte effetto cartapessa sulla palpebra. Non lo so. Però la tengo perché comunque è una palette particolare. Ogni tanto mi vado ad usarla, ma solo perché è particolare, non per altro. Però non è... Non è nulla di che. Poi ho usato l'Unlashed di Tarte. Spero di averla pronunciata giusta. Che è una palette che ho acquistato la scorsa estate. Mai usata. Ritirata fuori poi adesso. Purtroppo con questo lavoro estivo mi sono truccata a poco e nulla. Quindi se palette non lo sfruttate. Cacchio. Però vabbè. Lo facciamo andare. Palette che profuma da morire di cacao. Tarte è uno di quei pochi brand che secondo me ne vale la pena. Ci sta tutto. Qualità prezzo. Soprattutto quando le trovate in saldo. Ombretti con una texture molto fine. Nello stesso tempo però pigmentati. Sfumabili. E che durano raga. A me durano tutto il giorno. Non mi fa un effetto carta pesta. Qualsiasi Anna. Anna sì. Qualsiasi Anna. Qualsiasi anni ha la vostra palpebra. Cioè. Tarte. Cioè. Voglio dire. È bellissima. Magnifica. Bella. Top. E l'ho usata solo una volta. Non mi ricordo se ve l'ho detto. Poi. Ho usato. La White Berry. Delle Cutie Palette di Nabla. Due volte. Stupenda. Davvero stupenda. Non vedo l'ora di ritornare con voi. Con le palette preferite. O i top e flop del mese. Bla 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 bla. Perché. Oppure. Nei top 2023. Siamo nel 2023. Vero. Vi metterò assolutamente queste palette. Perché sono stupende raga. Sono meravigliose. Bella. Purtroppo. Con la mia unghia. Ah no. Mi era caduta la pinzetta. Ho rovinato. Forse anche diretta con voi. L'angolino di questo ombretto. Bellissima. Non ne rende. Purtroppo. È stupenda. Matte. Meravigliosi. Shimmer. Spettacolari. Bella. 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 Rispetto alle altre palette. Mi durano tantissimo. Questi ombretti. Ciao. Davvero bella. Mi piace tantissimo usarla. Mi. Mi rilassa. Non lo so. Mi fa stare bene. E adoro ammirare il mio look occhi. Quando uso queste palette. Quella che mi ha un po' deluso. Come vi ho già detto. Non so se si chiama la Metropolitane. O no. È quella con i blu. Vabbè. La vedrete tanto poi nel mio prossimo video. Perché aveva quel blu che è stupendo. Però non mi è durato. Mi ha fatto effetto caccolina. Ma anche lì. Non so se è stato il primer. Comunque è meravigliosa. Davvero meravigliosa. Nabla con queste palette. Proprio. Proprio adatto. 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 Speriamo che continui così. Vorrei che ne facesse uscire altre mille. E io le comprerò tutte in mille. Perché sono veramente la vita. Aperta. Chiusa parentesi. Qua si vede la mia onestà. Perché sapete che io ho sempre screditato. Fin da subito alcune palette di Nabla. Poi vabbè. Mi sono ricreduta su alcune cosine. Qua invece. E come mi fa cagare. Letteralmente cagare il loro mascara. Lì col gattino. La pantalana. Non so che cacchio è. Però. Raga. Quando c'è da dare a Cesare. C'è da dare a Cesare. Poi. The Natural Eyes. Di Too Faced. Un palette. Che ho comprato. Solo perché ho trovato. Un super saldo. Sul sito di Too Faced. Ha lo stesso pack. Sia secondario. Che primario. Della palette viso. La volevo comprare da anni. Poi non l'ho mai comprata. Perché ho detto. Sono sempre i soliti nude. Bla 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 bla. Poi chissà se è buona. Alla fine. È stupenda. La profumazione. Vabbè. Lo sapete già. Meravigliosa. È una palette nude. Con. All'interno. Qua ci sono. Due matte. Scusate. Se si vedono male. Abbiamo due matte. Uno. Leggermente satinato. E gli altri. Pure. Io li. Definirei. Satinati. Questi quattro satinati. Con dei micro glitterini all'interno. Però secondo me. Al quanto inutili. E altri. Due matte. È una palette. Stupenda. Per tutti i giorni. Da portare dietro. Eccetera. 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 E che dura. Quindi. Top. L'ho usata solo. Una volta. Scusate se vi ripeto. Gli usi. Perché non mi ricordo. Perché penso a cosa dirvi. E mi dimentico. Se ve l'ho detto meno. Poi. Ho usato. La. Ocean. Di. Opivi. Una volta. Questo spero di ricordarmelo. Palette. Che me l'ha piaciuta. Tantissimo. Anni fa. Quando la comprai. Insieme all'altra. La blu. Che non mi ricordo. Come si chiama. Che però. Non sono riuscita. A sfruttare. Quanto volevo. Vi dico solo. Che la banana. Di Jeffrey Sar. Volevo usarla. Quest'estate. Non l'ho mai toccata. Ma. Sono dettagli. Stupenda. I matti. Non mi fanno impazzire. Perché sono un po' secchini. Però. Non quanto quelli di Uda. Però. È bello. C'è anche questa. Venderla. Però forse. Dovrei fare un piccolo declatterino. E. Vedere. Un po'. Perché. Alla fine. È un po' anche uno spreco. Tenerle. Ci penserò. Ci penserò. Poi. Abbiamo. La. Non silent nights. Di morfi. Prima. È unica palette. Di morfi. Che ho. Acquistata. Con uno sconto. Su. Douglas. Sul sito. Di Douglas. E non. Negozio. La volevo provare. Così. Perché. Erano anni. Che sentivo. Quali. Di se palette. Mai provate. Poi. Ho detto. Ma sì. Per. L'ho pagata. Forse. Otto. Ero. Top per 8 euro. La pago. Quanto. Più o meno. Una revolution. Anzi. Anche di meno. E ha tantissime shade. Perché ha. 35. Se. Non. Mi sembra. 35. Questo 35. Dovrebbe essere. Le. 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 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. Sì. Ok. Vi confermo. Che sono 35. Sono 35. Quindi. Sono tantissime. E. L'ho riusata. Anche. Poi. Di. Di. Recente. Palette. Carina. Non. Ha. Niente. Di che. Pigmentano. Si sfumano. Discretamente. Però. Gli. Shimmer. Non. Sono. Tanto. Pieni. Sono. Un po'. Cupi. Però. Da tutti i giorni. Ci sta. Anche per il periodo. Autunnale. Invernale. Dove. Magari. Non vogliamo. Essere così. Shock. Bla. 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 Ci sta. Ma. Anche. Solo. Una palletta. Da portare dietro. Perché. Comunque. Possiamo. Fare. Vari. Dal. Dal. Più. Nude. Al. Magari. Un po' più. Accesino. Con. Questi. Doratini. Qua. O. Caldi. Ci sta. Poi. Vi ripeto. L'ho pagata. Veramente. Una fesseria. 8 euro. Quindi. 8. O. 8. 9. 90. Ed è. Grandissima. Poi. Ho usato. La. Sweet Peach. Una sola volta. Anche questa. Speravo. Di usarla un po' di più. Di fare qualche buco. Alla fine. Niente. Ed è. Secondo me. Una delle palette. Che ho più usato. In assoluto. Ma. Cioè. Si vede. Si. Che l'ho usata. Ma. Non. Non sono arrivata. Nessun buco. Forse. Si intravede. Eh. Lo scavo. Che c'è qua. Nel verde. Però. Cioè. Non lo so. Non. Non si puca. È una palette. Che comunque. Potrei continuare ad usare. A tanti anni. Oramai. Ma. E io. Comunque. Non l'ho comprata. Appena era uscita. E mi pare. Che l'ho comprata. Forse. Due o tre anni dopo. Però. È già da un bel po' di anni. Che io ce l'ho. Penso. Che abbia fatto. Insieme a me. Tre stati. Come minimo. Quindi. Il profumo c'è ancora. La pigmentazione. È ancora quella. La qualità delle polveri. È la stessa. Non è un. Non è mai stata una palette. Che mi ha fatto dire. Per. La texture. Ma. Mi è sempre piaciuta. Perché ha questo. L'effetto elegante. Non lo so. Mi piace anche questa da usare. Perché. Boh. Sono morbidi. Non lo so. Non lo so come mai. Pure non ha niente di che. Però. Non so. Mi piace tantissimo. Poi. Ho usato. La Rose Gold Remastered. Di Huda Beauty. Io non ho. Ho avuto modo. Di provare la prima. Anche se la mia amica. Ce l'aveva. Quella con. La. La plastica trasparente. Questa. Mi piace. I matte. Non mi piacciono. Per niente. Raga. Purtroppo. Non mi piacciono. Per niente. I matte. Anche se. Rispetto. Alla. Qual è quella. Che è uscita. Dopo di questa. La Desert Dusk. Lì. Matte. Mi fanno. Proprio schifo. Raga. Cioè. Dopo. Non mi piacciono. Mi stanno qua. Belli pantaloni rossi. Di pigiama. Non ci avevo fatto caso. Vabbè. Se voi non ci avevate fatto caso. Continuate ad un po' di casa. Sono leggermente migliori. Questi matte. Non mi piacciono. Gli shimmer. Sono carini. Però. Forse. Siccome adesso. È uscita. Roba migliore. Palette. Ora. Da. 72 euro. Ma. Anche. No. Però. Dovrei. Sfruttarla. Un po'. Perché. Ci ho speso. Un po' di soldini. Usata. Una volta. Mi sono dimenticata. Di nuovo. Sempre delle cutie palette. Ho usato anche la coral. Questa è la prima palette. Che avevo provato. Perché l'avevo trovata al 50. Mi pare su Nabla. E poi ha dato il via. La mia passione. Stupenda. Raga. Sono colori. Che. Sinceramente. Non sono miei. Ma. Durante. Il periodo. Primaverile. O estivo. Mi fanno impazzire. L'ho provata una volta. Per curiosità. Appena l'avevo acquistata. E. Mi ha fatto subito dire. Wow. Cacchio. Che fighi. La voglio usare tutti i giorni. E. Bella. Anche questa. Dà tante soddisfazioni. Vi fa diventare le palpebre. Due gioielli. Super luminosi. Stupenda. 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 Unico colore di questa palette. Che non mi piace. È questa specie di bordeaux. Perché. Non lo so. Abbinare gli altri. Solo per quello. E poi magari. Se vado alla ricerca. Di questo colore. Mi dimentico. Persino. Di averlo qua dentro. Stupenda. Che di figuriamo. Figuriamoci. Cos'altro. Vi posso dire. Delle chiuti. Sono molto carine. Ma sono incomplete. Purtroppo. Perché. O non abbiamo. Un colore. Per. L'arcata. O non abbiamo. Un colore. Per intensificare. Quindi. Avrei. Magari. Fatta a meno. Di mettere su bordeaux. Magari. Ci avrei messo. Un panna. O qualcosina. Così. Poi. Solo una volta. L'ho usata. La teddy bear. Ho usata. Una sola volta. Che è una palette. Che mi ha deluso. Esteticamente. Che dove l'ho messa. Eppure. L'avevo presa. Eccola qua. Sera imboscata. Esteticamente. Mi ha deluso. Perché non me l'aspettavo. Così piccolina. E' veramente piccola piccola piccola. Le cialde. Eppure. Sono minuscole. Cioè. Solo per darvi un'idea. Guardate il mio poppastrello. Cioè. Praticamente. Io copro. L'intera cialda. Figuratevi se schiaccio. Cioè. Vabbè. Però la qualità. E' buona. E' bella. Alla fine. Questi due prodotti. Si possono usare. Anche. Come. Blush. Ma è veramente piccola. Cioè. Non mi viene da usarla. Solo per. L'agra le dimensioni. Poi. Ultima palette. Che ho usato. E' la Tarte Glamour. Usata. Una sola volta. Che è quella. Uscita. Insieme all'altra. Dalle colorazioni calde. E' una palette. Che mi piace tantissimo. Che non penso di sfruttare tantissimo. Perché è fredda. E sapete che io non. Amo i freddi. Però. Vi devo dire la verità. Scusatemi. Non si vedono bene. Vi devo dire la verità. Sull'occhio alla fine. Non mi dispiaciono. Però. Vedendoli così. A primo impatto. Non mi piacciono. Non mi attirano. Però. Sono davvero molto. Molto belli. E. Queste sono le palette. Che ho usato. Vi ripeto. Ho usato 15 palette. Per un totale di 20 utilizzi. Su 30 giorni. Quindi 10 giorni. Praticamente. Non mi sono toccata. E. Nulla. Io spero. Come sempre. Che il video vi sia piaciuto. Perdono. Se mi guardo in giro. Ma volevo mettere a posto le palette. Le palette. Come sempre. Ve lo ho già detto. Fatemi sapere tutto. Quello che volete farmi sapere. Io ho perso la palette. Ma possibile. Sono un po' ricercata. Eccola qui. Fatemi sapere tutto. Quello che volete farmi sapere. Ringrazio anche i nuovi iscritti. Perché ho visto che si sono iscritte altre persone. E. Ci vediamo. Quando ci vediamo. Non so se ci vedremo poi. Con il video sulle palette usate. A luglio. Agosto. Settembre. Perché ve lo faccio tutto insieme. Oppure. Oppure. Non lo so. Vi girerò altro. Non lo so. Adesso mi hanno rinnovato. Fino al. 15 di ottobre. Perché il. Il lavoro sta calando. Ma. A noi. Erano state fatte. Delle. Delle promesse. Ce l'ha stato parlato. Anche di un lavoro invernale. Quindi. Non lo so. Raga. Non so se era tutta una cavolata. E. Vedremo come andrà. Se. Mi rivedrete. Più spesso. E perché. Ho finito il 15. Se no. Non lo so. Vabbè. Un bacio.